lisa svegliati subito salve mi senti che succede mi sono addormentato lisa penso che siamo in pericolo dobbiamo andarcene da qui velocemente che succede hai avuto un incubo no ho sentito una conversazione dei nostri nuovi genitori stanno facendo qualcosa di brutto con noi ecco il mio cheeseburger mi stai almeno ascoltando laura dobbiamo stare gitti nessuno può sentirlo ok va bene ho appena parlato con papà dovremmo iniziare già domani molto buono prima abbiamo finito meglio è quindi cosa facciamo penso che siamo in serio pericolo stai ancora mangiando quell hamburger o posso averlo cosa c'è che non va con te lisa lo prendo come un no l'hamburger è mio sei ancora mezzo addormentato no ma quello che stai dicendo non ha senso questa gente qui è ricca da schifo hanno già tutto perché dovrebbero farci qualcosa non lo so ma l'ho sentito hanno un piano malvagio probabilmente stavi dormendo e lo stai solo immaginando no non me lo sto immaginando su vai a dormire ne riparleremo domani ok cosa intendi non dire che non ti ho avvertito siete pronti per il primo giorno di scuola ragazzi no ho paura non sono mai andato a scuola prima e se gli altri mi maltrattano davvero non sei mai stato a scuola prima come hai studiato abbiamo sempre avuto un insegnante che veniva a casa nostra pensi che anche samuel e lisa lo capiscano non lo so forse non c'è bisogno di preoccuparsi prima devi abituarti un po al signor kunze ma gli amici di lisa sarah e marcus sono davvero simpatici ok non ti deluderemo e otterremo solo buoni voti ci vediamo dopo ti amiamo sei pronto per il tuo primo giorno di lezione sì frequentiamo una scuola per snob no stai studiando con il signor big head chi è quello è il tuo tutor privato e il suo nome è davvero big head sì perché o proprio così quindi non dobbiamo andare a scuola no le lezioni si svolgono qui a casa nostra puoi andare al piano di sopra mister big head ti sta già aspettando va bene ci vediamo dopo buongiorno cari studenti oggi abbiamo due ospiti si chiamano laura e lorenz si gentile con loro i loro genitori sono ricchi sì marcus otteniamo soldi se siamo gentili con entrambi non lo so dovrai chiederlo ai loro genitori non a me eccoti ti stavo aspettando sei quel tipo dalla testa grossa sì mister big head per essere precisi non c'è da stupirsi che ti chiami così quella cosa è enorme cosa per favore o niente non vediamo l'ora di imparare da te ok allora per favore siediti inizieremo subito quindi chi può dirmi quando è stato costruito il muro sì laura cosa ne pensi era il 13 agosto 1961 è corretto come fai a saperlo adoro la storia ok e quando è caduto il muro sì lorenz per favore era il 9 novembre 1989 wow le lezioni sono davvero divertenti con te sei molto più intelligente di tutti gli altri bambini perché non rimani qui per sempre bene iniziamo oggi per prima cosa copriremo noioso chi era quello non sono stato io nemmeno io ci sono solo tre persone in questa stanza deve essere stato uno di voi non sono stato davvero io nemmeno io lo giuro ok ti darò un'altra possibilità allora dove mi sono fermato oh sì stavo giusto per spiegarti che noioso adesso basta esci e ritorna tra cinque minuti fantastico grazie ci prendiamo una pausa non è una pausa è una punizione qualunque cosa tu dica testa grossa quanto sono ricchi i tuoi genitori su una scala da 1 a 10 mio padre ha il suo elicottero wow fantastico anche il mio ma è fatto di lego per quanto tempo starai qui adesso abbiamo scambiato famiglie con lisa e samuel per due settimane e ho fame cosa possiamo mangiare qui vicino c'è un amici germans nelle vicinanze volevamo andarci comunque vuoi venire con noi sì non ci sono mai stato prima non sei mai stato da amici germans allora hai molto da recuperare vieni con me ehi vuoi giocare a tombola per insegnanti come funziona a ciascuno di noi vengono date due parole devi convincere l'insegnante a dirle allora hai vinto ok suona bene quindi ora tutti scrivono due parole non ho mai perso in partita dai fammi vedere cosa hai scritto come faccio a convincere il ragazzo a dirlo ehi non lamentarti anche le mie parole sono difficili cibo per cani e gatti glielo farò dire in qualche modo forza samuel andiamo prima che big school si agiti di nuovo ok allora siediti e stai gitto quindi stavo per dirti che scusate ho una domanda si samuel cosa c'è è vero che gli squali amano mangiare i cheeseburger no non ho mai sentito niente del genere ne sei sicuro sì ne sono sicuro possiamo andare avanti adesso anch'io ho una domanda sì lisa puoi dare anche cibo per cani ai gatti perché vuoi dare cibo per cani ai gatti bingo ho vinto salve cosa ottieni puoi consigliare qualcosa prendi i cheeseburger e i frappè ok avremo 10 cheeseburger e 10 frappè va bene arrivo subito vuoi mangiare 10 cheeseburger da solo no ti sto invitando ho con me la carta di credito di papà fantastico grazie davvero carino da parte tua signor bighead cosa c'è che non va non hai lezione adesso no vado a casa non puoi insegnare a questi due mostri ma hai appena iniziato allora darò le dimissioni puoi trovare qualcun altro i due ci stanno rendendo le cose più difficili di quanto pensassimo calmati melanie presto sarà tutto finito sarà più veloce di quanto pensi speriamo che le cose vadano meglio per laura e lawrence e com'è andato il tuo primo giorno di scuola è stato fantastico marcus e sarah sono davvero simpatici sì e anche il signor kunze è fantastico davvero ti piace il signor kunze sì perché no è davvero carino e sta davvero cercando di insegnarci qualcosa wow è la prima volta che lo sento ok abbiamo finito con la scuola per oggi c'è qualcosa in cui possiamo aiutarti vuoi aiutarci con qualcosa sì possiamo cucinare la cena o pulire il bagno è allora che puoi finalmente rilassarti sì sarebbe fantastico ok ti risponderemo quando avremo finito mi riprendo tutto martin saranno le due settimane più belle della nostra vita speriamo che lisa e samuel si divertano tanto quanto noi ehi vuoi vedere qualcosa di interessante sì certo ok guarda bene cosa sta succedendo adesso aspetta un attimo devi essere paziente c'è un'emergenza che succede scusate era un falso allarme pensavo di dover andare in bagno e ho finito la carta igienica ma era solo una scoreggia ok capisco lisa fantastico anch'io voglio una campana così puoi prendere in prestito il mio se vuoi fantastico grazie lisa oh è stato accidentale cosa sta succedendo adesso non siamo stati noi sì è venuto da qui l'ho sentito esattamente no credo provenga dalla cucina ok forse hanno bisogno di me esci da qui prima che il ragazzo ritorni mi ha ingannato di nuovo il suono non proveniva dalla cucina se ne pentirà ok abbiamo pulito il bagno e ti abbiamo preparato qualcosa per cena stiamo facendo i compiti di tanto in tanto e poi andremo a letto vuoi andare a letto adesso? sicuramente dobbiamo essere pronti per la scuola domani ok buonanotte allora dormi bene buonanotte mamma buonanotte papà vi amiamo ragazzi ehi voi due dove sei stato tutto il tempo? eravamo nella nostra stanza a studiare il signor Big Ed ci ha dato i compiti per dopo perché non vai in piscina a rilassarti un po? te lo meriti dopo una giornata così dura sì sarebbe fantastico ok allora vai in piscina diremo a Wilhelm di portarti del gelato più tardi grazie mamma grazie papà sei il migliore chiamiamo i bambini e chiediamo come stanno? certo perché no? questa è quella che chiamo una bella vita sì puoi dirlo ad alta voce essere ricchi è davvero divertente anch'io voglio diventare ricco dopo non ti servono buoni voti per farlo? diventerò un influencer o qualcosa del genere sono mamma e papà devo rispondere? sì può essere importante e bambini come state? ciao mamma ciao papà stiamo bene e tu? anche molto buono come sono i tuoi nuovi genitori? sono gentili con te? sì lo sono guarda dove siamo adesso e papà che succede? hanno una piscina in giardino sì figo vero possiamo averne uno anche noi sì magari quando inizierai a lavorare no preferirei di no ok volevamo solo sapere se stavi bene sì va tutto bene non preoccupatevi ok allora abbi cura di te e a presto penso che a loro piaccia davvero stare lì sì sembra proprio così non posso sopportare un giorno di più con questi due idioti nemmeno io dobbiamo velocizzare le cose preferibilmente domani sì sono d'accordo con te pensi che i suoi genitori siano già pronti? dovremmo chiederlo a Lawrence ok chiamalo sì papà cosa c'è che non va? Lawrence non ce la facciamo più con questi due puoi farlo domani? già domani non è un po' presto? pensi che funzionerà? abbiamo bisogno della tua opinione oggi è stata davvero una bella giornata possiamo provarlo domani ok allora lo faremo domani ottimo lavoro ragazzo ecco il vanilla sande due volte dove sono i granelli al cioccolato? quali confettini al cioccolato? non c'è sande senza confettini devo davvero rifare tutto da capo? sì potresti imparare qualcosa questa volta divertiti a scuola grazie volevamo chiederti un'altra cosa certo di cosa si tratta? stiamo davvero imparando molto qui ci piacerebbe rimanere più a lungo possiamo estendere il programma per un anno uh non so cosa abbiano da dire Lisa e Samuel a riguardo hanno già accettato o davvero? beh se è così in realtà non c'è niente di sbagliato in questo o cosa ne pensi Martin? certo perché no? se anche Lisa e Samuel lo vogliono ok devi solo firmare qui va bene facciamolo allora ehi dov'è il signor Bighead? non è in classe oggi è venerdì oggi non hai lezioni davvero? siamo liberi? non completamente stai andando in gita con Wilhelm puoi andare fuori ti sta già aspettando va bene grazie ecco ti su sali ho una sorpresa per te dove stiamo andando? quando te lo dico non è più una sorpresa ok mi piacciono le sorprese questo ti piacerà particolarmente ne sono sicuro l'intelligenza artificiale è già finita sì vuoi vederlo? sì sicuramente ho fatto uno sforzo in più ciao sono Lisa sto bene non devi preoccuparti per me perfetto sembra proprio lei i suoi genitori non sapranno mai niente il nostro piano è perfetto ok siamo arrivati ma non c'è niente qui sì è il peggior viaggio di sempre devi entrare la sorpresa ti aspetta lì dentro cos'è questo qui? è la tua nuova casa stai cercando diamanti per la famiglia Golbach per quanto tempo dovrebbe andare avanti? almeno un anno no assolutamente no oh sì i tuoi genitori sono d'accordo ora siete nostri schiavi mettiti comodo passerai molto tempo qua giù qual è stata la seconda parola di Samuel nel tombino per insegnanti? a squalo b gatto c cheeseburger lascia un commento che è questo? è un commento che è stato a fare la seconda parola di Samuel